Le paste di frutta secca e pralinati nascono per insaporire prodotti di pasticceria, gelateria e cioccolateria. Per le paste di frutta secca utilizziamo solo frutta secca, mandorle, nocciole, pinoli, pistacchio eccetera. Il segreto? La tostatura e la qualità del prodotto. I pralinati sono realizzati con frutta secca e zuccheri. Possiamo aggiungere zucchero a velo, zucchero di canna, zucchero semolato o zucchero caramello e profumare il tutto con una bacca di vaniglia. Il metodo? Mettiamo tutto nel robocubo e grazie al raffreddamento e al sottovuoto evitiamo un'ossidazione precoce del prodotto e un surrescaldamento della massa. Ah, dimenticavo! L'ingrediente segreto? La passione! Terminato il processo di lavorazione, ecco qui il nostro pralinato con una texture molto fine. Se accorciamo i tempi di lavorazione otterremo un pralinato con una texture molto croccante.